Ciao ragazzi, sono tornato al cimitero di Monteparano, per un'altra vita di Monteparano. Aspetta qua, lo faccio vedere, ha un vecchio video, ha un vecchio video, mi ricordo la cosa. Quanto vuole fare? Questo è comune, vedi? Quanto vuole fare che non viste? Ma di credito Vanno ancora? A vieni d'anno, 155 Quanto vuole? Quanto vuole? Quanto vuole fare con il tavoli? Dimentichiamo Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Questa è la prima volta, avete tutte le celluliche, la giornata è la prima volta, la terra è secca, la terra è secca, perché non piove. Io ho detto doveva piovere domenica o ieri alle 10 ma non ha piovuto. Vedete qua la legna, che le persone fanno tutti fuoco a Montepanano. Quasi, quasi. Quasi tutti hanno il fuoco a Montepanano. Qua abbiamo una piazzetta. Questa è arrivata al cimitero, mia madre è andata a comprare i fiori. Quanto video avete già visto. Questa è una piazzetta. L'avete già visto questo video? Perché l'avete già visto? Vedete? Va bene a vedere il palorama. Non ho mai visto. Va bene. Qua è la cimitero, è tutto qua. Qua è tutta l'Evra. Avete già visto questo video? e andiamo a vedere da guarda che non metto guarda che potrà fare io mi metto di qua, qua è mai che cosa no, io non devo uccidare, devo andare dritto mi metto di qua, mi metto qua, nell'epra, vedete, sto documentando, sto camminando nel questo, sto documentando la mia strada, a cimitero, ieri ho documentato, vedete come sono queste strada per santi metri di grottali, che, mettiamoci qua, stanno nelle macchine, a passare le macchine, però non ho documentato, sto a casa mia, mi metti vedere, non è che posso costumare, la batteria, se sarebbe, poi la casa si va a una stradina che non so dove, le strade rotte, queste pietre stanno pure, queste qua stanno pure a cimitero, di grottale, questi punti, sottotella, vedete qua, tutta una, una discarica, dombini, tutti l'ottima, vabbè, io, questo qua, il cimitero, vedete tutte le discariche, tutte, dovevo fare con il tapete, però, beh, tutte, per fare una qualità migliore, per fare con il tema, tutte le discariche a tela, qua, non ti, qua ragazzi, non so, perché io non vivo, ho mia nonna, mia zia, i miei cimitero, i due anni fanno una cosa, i pietre, eh, vedete, qua abbiamo, dall'altra parte con i palla, qua non me lo ricordo, quattro li voci video stacco, perché non posso riprendere dentro il cimitero, perché la profesi, qua, stanno, stanno, fanno tagliato gli alberi, qua, abbiamo l'altro lavaggio, qua, si vanno a campagna, le molte parole, la casa è tutta a campagna, negli anni di prima, questo, poi, mio nonna mi diceva, con anima, che, poi, io, vicino a casa mia crottaglia, poi, mio, vicino a casa mia crottaglia, era tutta così, tutta a campagna, con l'ebra, giocamano a calcio, poi, piano piano, l'ho parlato nel 58, quando mi abate, il 49, poi, piano piano, piano piano, piano piano, l'ho petto del target, vedi, qua, ho un altro lavaggio, è bella, stavo di dentro, piano piano, ho portato così, tre case, un altro lavaggio, e, ok, andiamo, andiamo, aspetta, stop, che la cartina, ho stoppato, perché, stavo a copilare, io non ne voglio copilarti di niente, qui, mi sono, mia sorella, vuol tornare a me, io, non entro in cimitero, aspetto fuori, qua, 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 all artista, qua, frutto, paglanti, possiamo andare giro di qualche qualche semi salita la struttura, poi, appiccante, qui, ho tenito, via, paratina, su, ho tenito in le cagline, qualcuno qua, alle patiente, qualcuno qua ha le caline, aspettate, qualcuno qua alle galline, qualcuno qua ha le caline, perché qua apre con una grotta, non con tali no, ma con la nuova ordinanza il pomeriggio qua è aperto e vediamo